Musica Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento con la carriera allenatore Nell'episodio precedente abbiamo giocato l'andata delle semifinali di Champions Abbiamo fatto due vittorie importantissime per quanto riguarda il campionato che ci porta verso il titolo finale Ma piccola parentesi prima di continuare con l'intro Sotto al video precedente qualcuno ha osato scrivere MTGT coppiti in piante non da leggenda Va bene, le cose gravi sono altre Però, rosa, trasferimenti, ufficio, è mio eh, è mio, è mio, che è mio Stagione, impostazioni, 4 minuti leggenda come vi ho scritto sotto io Leggenda Va bene, ma qualcuno dirà, eh ma c'è la cosa Ultimate No, voglio giocare Leggenda Perché io mi diverto con Leggenda Con Ultimate probabilmente, non so se sarò forte all'altezza Ma non voglio bassemiare Già prendo un palo a partita o quasi Quindi, leggenda, 4 minuti Quindi chiudete eccesso, care testi di Zai E fatemi continuare in maniera onesta e seria la mia carriera Detto questo, adesso dobbiamo affrontare il ritorno con il Manchester United E poi, Hellas Verona e Torino Quindi due partite di campionato abbordabilissime E penso che se dovessimo vincerle entrambe Sì, saremo i campioni d'Italia Se dovessimo vincerle entrambe Ma comunque, cammi, concentrati per la partita di Manchester Detto questo, respiro profondo E andiamo in campo Dai cazzo! Amici sportivi, buonasera Benvenuti qui a Old Trafford In scena a Manchester United Napoli E Napoli ha un piede e mezzo per la finale Ma adesso c'è questa gara di ritorno Il Manchester non vuole regalarla, ovviamente Quindi giocherà con sangue negli occhi In Napoli con un turnover ampissimo Deve solo controllare la partita E magari concretizzare le occasioni che avrà Detto questo, sigla Champions League Nel primo tempo dell'andata I Red Devils non hanno trovato manco uno spicchio della porta Oggi sarà forse una partita diversa Chi lo sa, intanto ci si aspetta un grande Napoli qui a Old Trafford E inizialità Manchester United Forza ragazzi, concentrati, cazzuti come sempre Con la mentalità marziale Attenzione, è bella lunga Marziale che controllo Ma c'è Alexander Arnold Pugba Rose Marziale lo segue Alan, Rose Talisca Anzi Pugba Pugba il traveling, bello Attenzione Lukaku Lukaku cross in mezzo peretto Va bene E gioca leggenda Leggenda E questa è la prima azione pericolosa del Manchester United Va bene Alan Mick Inizialmente di Urar Perfetto Lozano Lozano Ma no Fuori gioco Porco Porco Disco Con un breve tempo molto sonnacchioso Iname che prova a gestire il pallone con Possesso palla molto sterile Ma attenzione Urar Lozano alle spalle Non c'è qui va Rafa di testa Pugba Indietro Semedo Dracca di mezzo a due Lideroff Talisca Attenzione Bravo Zinchenko Lozano Urar Veloce Più veloce Più veloce Alan Milik Bello come se ne esce Napoli Urar Bello per Lozano Lozano in dribbling Anzi no Urar Indietro per Alan Per Malcom Peccato Urar Urar Arriva Maximo Prova a chiuderlo Bravo Maximo Calcio in angolo Per il Manchester United Siamo al 43 Solo Un'azione Se si può definire tale De Gea sta prendendo il caffè Vicino alla sua porta Verete di pugni Attenzione Vediamo Lozano Questo pripetto Vediamo se c'è qualche movimento Arriva da dietro Fabiano Malcom Malcom se ne va Malcom provate ad andarsene Malcom se ne va Eccolo qui Malcom Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Con calma A finire il primo tempo Ma un primo tempo Molto suonacchioso Pur giocando leggenda Il Manchester United Non ha fatto un cazzo Perché io forse sono migliorato Non lo so Ma comunque Il Manchester United Ha fatto quella piccola Minuscrizione Con un cross in mezzo Ma niente di che Comunque Allora Il Napoli È ancora il vantaggio Frutto del 2-0 Nell'andata Vaffanculo E il senso del primo tempo Qui a Old Trafford Un primo tempo Più triste Della storia Del Napoli Di culone Sia il Napoli Che l'avversario Hanno fatto 0 tiri Quindi Speriamo di vedere Un secondo tempo Più grintoso Più con velocità Infatti qui Malcom Vediamo Malcom Super a Rose Malcom Smette avanti Si vedo Eh Bella talla per Rafa 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 Attenzione Maximo Eccidente Chiudere Tu qua Uuu Maximo Bravo Bravo Così Bravo Maximo Ed è Rimessa Nella finale Per il Napoli Va bene Santesimo 0 a 0 Partita molto brutta Una partita solo tattica Oserei dire Minik Minik Attenzione Controlla bene Controlla bene Allarga Bellissimo Per Zinchenko Zinchenko Crossi in mezzo Troppo Oddio Non ho Minik Con calma Mi caccio Dalla di Napoli No 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 Martialo No Rafa Attenzione Rafa Entrenare Rafa Attenzione Tiro Lukaku Che salvataggio La difesa In Napoli Lozano O'Ari Non c'è nessuno C'è Zinchenko Che vince Il contrasto Eccolo qui Devea Alla Non è finita Malcom Con calma Malcom Attenzione Tiro Ancora calcio D'angolo In Napoli Napoli Molto Con turn over Però vediamo Lozano Dalla bandierina Lozano Crossi In mezzo Inglese Anzic L'inserimento Di Lozano Lozano Il drible Lozano Lozano E' Lebero Troppo Largo Lindeloff Direi che è finita E' finita Una brutta partita Un cesso di partita Ma nonostante Il livello Leggenda Il Napoli E' in finale Di Champions League Giocando una partita Di merda Con un turn over Ampissimo Ma adesso Leviamoci dai pali La Champions E pensiamo Al campionato Sperando Di Festeggiare E' Ecco ragazzi Alla schermata Iniziale Dobbiamo affrontare Lellas Abbiamo superato Il secondo scoglio Manchester United Siamo arrivati In finale Di Champions League Nonostante il livello Leggenda Ok La Juve Ha perso Come vedete 36 partite E noi 35 La Juve Ha perso La Juve Ha perso Contro Il Bologna Per una 0 In casa Quindi se dovessimo Vincere Contro l'Ellas Che Che è Ultimo Cazzo Se non vinciamo questa Abbiamo vinto Lo scudetto Perché poi ce ne rimangono Altre due Quindi abbiamo vinto Lo scudetto Matematicamente Detto questo Ma io Concentriamoci Con calma E andiamo Cazzuti A Verona A Bentecotti Forza Ragazzi Andiamo in campo Amici sportivi Buon poveriggio Benvenuti Qui allo stadio 22 di Verona In scena Elas Verona Napoli Il Napoli Ha Un'ottima occasione Per vincere Questo Dallatissimo Scudetto La Juve Ha perso Il Napoli Ha una gara in meno La giocherà Quest'oggi A Verona Che se vincerà Come potete vedere Avrà 9 punti Di vantaggio E iniziata Elas Verona Napoli Forza ragazzi Qui a Bentecotti Unico obiettivo Per vincere Curiosità della gara Entrambe le squadre Giorano con Con la seconda Divisa Zelischi Cavani Il tiro Insigne Silvestri Pazzini Happin Pazzini Il tiro Ma c'è una battata Ma mi neanche c'è Insigne Bello Bello è Cavani Ma il Zilischi Ma il Zilischi Ma il Zilischi Non è fuori gioco Ma Cavani Alan Tonali Che buchi Che buchi Da parte di Verona Cavani Bella bella Il Lorenzo Il segno Stop E ne buuuu Un laso Un grande segno Un grande saletto A superare Silvestri 1-0 Napoli Bella azione Da parte degli azzurri Ma che buco enorme Da parte del Centrocampo E della difesa Per la veronese Per insigne Freddezza E conclusione 1-0 Napoli Affanculo Cavani Si gira Bella per insigne Troppo lunga Troppo lunga Troppo lunga Troppo lunga Fermati Ragiona Zilischi Alan Però Il tiro da fuori Si Vestri Valotti Dalla bandierina I padroni di casa Fanno un'azione Offensiva Ma non va Attenzione Il tiro Meret Miracolo Livello leggenda Meret Fine del tempo Napoli 1-0 Bel gol Di Lorenzo In signe Va bene così Con calma Con tranquilli E adesso Il secondo tempo Basta gestirla La gara E in sé Il secondo tempo Qui a Verona Napoli in vantaggio Con bel gol Di Lorenzo In signe Malen Bella per Cavani Bella per Malen Malen Attenzione Malen Come un fulmine Per un tiro Voteva fare un cosiddetto Voteva avanzare un po' di più Valotti Anticipato Cavani Bella per Malen Che corre Malen Vai Malen Vai che c'è il turbo Malen Vai c'è il turbo Vai c'è il turbo C'è il turbo Piotr Zilischi 2-0 Zombie E ne avori In vantaggio In doppio vantaggio Affanculo 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 Mi sembra tanto Homer Simpson Affanculo Affanculo 2-0 Napoli Usa il fisico Delict Pazzini Attenzione Up in Indietro per Valotti Valotti Si prepara Il livello di leggenda Che manda la palla fuori Grande Valotti Leggendario Bravo Valotti Malen Aspetta qualcuno Aspetta qualcuno Eccolo qui Mal qui Mal qui Mal qui Crossi in mezzo Zilischi Di testa Zilischi 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 Tonali Cavani Cavani Guarda Malen E' TIROOOOO Ed è 3-0 Eccolo qui Malen E' gioiellino Pescato Naculone Che fa un bel gol Bel gol Bella sponda Da parte di E' Vinson Cavani Non segna Ma è determinante Il Matador 3-0 E' tutta a casa Bella per Mal qui Vai Malen Vai Malen Che corre Vai Malen Vai Malen La difesa è morta La difesa è morta Silvestri Attenzione golse La ribi Attenzione Gullamba Santi Oh 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 Va bene Via Guavarai di porta Ma chi cazzo Ma Ma Va bene Guavarai di porta Incredibile L'ignoranza Non ne so Prepe accorto Ma è Napoli Vince E' campione D'Italia E' campione D'Italia Almeno su FIFA Vaffanculo A livello leggenda 4 minuti E tutti festeggiano E andiamo, e andiamo, 9 punti di vantaggio sulla Juve, 9 punti irraggiungibili, adesso le ultime due gare sono solo un niente, sono solo per allenamento, tutti festeggiano, quindi godiamoci i festeggiamenti degli azzurri che almeno sul FIFA si portano a casa il sogno. Eccoci qui ragazzi alla schermata iniziale, dobbiamo affrontare il Torino ma tanto sono amichevoli, quelle qua, le partite rimanenti del campionato, noi abbiamo vinto il campionato a più 9 dalla... minchia, 3 squadre a 70 punti, minchia, è una mucchiata selvaggia tra seconda e terza e quarta posta, incredibile. Il Torino è nono, potrebbe sognare qualcosa per l'Europa? No, quindi neanche il Torino ha da dire niente, comunque io faccio giocare le seconde linee, sicuramente, e comunque andiamoci a giocare questa partita, anche se non va niente, comunque cerchiamo di giocarla sempre al meglio, e avanti Napoli, dai cazzo! Il pubblico di Napoli è in festa, ormai Napoli è campione d'Italia con due giornate di anticipo, ma eccoci qui, qui al San Paolo, Napoli-Torino, una gala che non vale niente, vale al massimo per testare i giocatori che hanno trovato poco spazio, e quei giocatori che vorrebbero confermarsi, potrebbero confermarsi per la terza stagione, che non si farà, ma comunque speriamo di goderci ugualmente un bello spettacolo. E' iniziata Napoli-Torino, ormai la testa è altrove per gli azzurri, ha due finali che deve giocarsi, ovvero Coppa Italia contro il Milan, e poi, quella più importante, contro il Bayern Monaco, di Champions, in tanto inglese, ma te li parla, diaverà, Amsic, Amsic prova, e il tiro da fuori, ancora lui, la ribattuta! Va bene, va bene, va bene. Mette, Vaselli, fortunato, diaverà, ma recupera il pallone, Lozano, anzi Amsic, vai Manec, vai Manec, bella palla per Malcom, che se ne va Malcom, 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 si, troppo centrale Malcom, inglese non c'è in mezzo, perché non c'è? Giaverà, inglese, 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 Manecciaro! Ah, peccato, Berenghè, bravo, Amsic, che gli so il pallone insieme a Fabiano, vera per Malcom, si ferma, giusto, inglese, vera per Malcom, 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 bravamente, non si resta così, così stand! Zeko, Vorme, attenzione, Zinchenko, prova a chiuderlo, Vaselli, entra in aria, Vaselli, per il prossimo mezzo, Maximo Hiccia, calcio d'angolo per il toro, attenzione, va bene, Maxi, no, 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 Vaselli no, Vaselli no, Bremer, bravo, ma oddio, Zeko! Occasione per il toro, inglese, 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 mamma mia, da fermo, buona occasione da parte dell'ex Clivenze, però, 0-0, in questo fine del tempo, una bella partita, una partita divertente, una partita dove Napoli non ha niente da chiedere, il toro non ha niente da chiedere, pertanto, va bene, è il senso del tempo tra Napoli e Torino, quindi, vedo un po', se si ripeterà il primo tempo, oppure ci saranno più, eh, più accorgimenti, venga per Malcom, vai Malcolino, vai Malcomino, vai Malcomino, eh, vabbè, Bremer, bravo Hamzik, bravo Hamzik, Malcom, mannaccia, mh, Rebic, attenzione, da Fur, Vaselli, Zeko, no, 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 è solo, è solo, è solo, Rebic, Zeko, Zeko, Berenguer, Berenguer il tiro, Karnetis, Bremer, lunga per Berenguer, se di lui c'è Alexander Annoto, che chiude Beret, Karnetis, bella uscita, Jakovac, dalla bandierina, cross in mezzo, Zeko, di poco, fuori, va bene, ancora calcio d'angolo per il toro, Niang, che ha una bandierina, cross in mezzo a Bonifazi, Karnetis, partita divertente, una partita divertente, finita, 0-0, ma adesso continuano i festeggiamenti qui, a San Paolo, festeggiamenti interrotti lì, a Berona, ma adesso c'è la vera festa qui a San Paolo, pronti a alzare il trofeo, tanto sognato, tanto desiderato, e tanto raccolto, con fatica, sudore, e organizzazione, Koulibaly il capitano, Koulibaly il capitano, alza la capitano, alza la capitano, medagliette, tutti, giro d'onore, Koulibaly manca le insegne, Amsi con la fascia, Koulibaly il vice d'insegne, e Koulibaly alza, Koulibaly alza la Coppa, Napoli il campione d'Italia, anno 2019, 2020, una bella emozione qui a San Paolo, chissà se nella realtà vivremo queste emozioni incredibili, incredibili davvero, complimenti a Peppone Coulibaly con la sua organizzazione, con i suoi schemi, con il suo culo, ovviamente, e con il suo giocare a livello leggenda, forza ragazzi! Eccoci ragazzi all'ultima schermata della puntata, abbiamo vinto lo scudetto, non abbiamo fatto partite incredibili, abbiamo pareggiato a Manchester, che però ci ha consentito di andare in finale di Champions, abbiamo pareggiato a Torino, una partita che non valeva niente effettivamente, ma comunque abbiamo vissuto i festeggiamenti su FIFA, quindi primo trofeo a casa, voglio rendere umaggio, voglio rendere un grandissimo ringraziamento a Giacomo Troiano, a Danny Game e a Gianluca Caprani, che con la loro fissazione, con il loro non sapere un cazzo, hanno detto una mega cazzata, dicendo che io giocassi principiante, e invece, eccomi qua, impostazioni livello leggenda! Poi c'è stato Danny Game che ha detto, per pararsi il culo, peppone, voglio vedere come giochi a modalità Ultimate, va bene, ok, parati pure il culo, ma io sono contentissimo così a giocare a leggenda, poi sti cazzi, sinceramente, poi magari a FIFA 20 mi viene la pazzia di giocare a Ultimate, ma comunque adesso, tutti zitti, e fatemi godere, fateci godere questo momento, anche se su FIFA, sti cazzi, comunque la prossima puntata è la puntata finale, perché giochiamo di tutto, ci giochiamo tutto, Fiorentina, vabbè, Fiorentina è un balucazzo, Milan e Bayern Monaco, fatemi sapere se la Fiorentina la devo simulare, così ci possiamo godere appieno tutte le emozioni delle partite contro il Milan e contro, soprattutto, il Bayern Monaco, fatemi sapere se in Premier, o tramite commento, o tramite like, ok, se, vado a sparolare, se raggiungiamo i 200 like, simulo la partita della Fiorentina per goderci appieno le partite contro Milan e Bayern Monaco, detto questo, un saluto a tutti, forzano per sempre, almeno su FIFA, godiamo, ciao a you!